Il nostro scrittore non avesse più senti, è come se non avesse più favore. Sì, forse hai ragione, l'ho vissuto talmente tanto che non saprei proprio ora. Sì, ma è stato piacere di una vita vera, di una vita terra, di una vita semplice. Ascoltami, è così la città. Vado a preparare i presenti e la cena. 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 Vado a preparare i presenti e la cena.